Una delle novie principali che mostriamo nel lavaggio del lavaggio in Eurocucina per la prima volta è il nuovo terzo basket che introduciamo che ci dà più flexibilità in comparazione con le soluzioni standard disponibili nel mercato. In particolare, come potete vedere nel prodotto, abbiamo due strade separati che possono essere rilassati in caso di necessario più spazio nel basket upper o potete usare in diverse posizioni per dare più flexibilità. Per esempio, una delle posizioni che vi consigliamo è questa che ci dà la possibilità di avere tanti occhi in questa area o, al contrario, potete anche fare come questo potete avere la possibilità di mettere i vostri cartellari in questa posizione e mettere i vostri cartellari in questa area o, magari, rilassare uno di loro e lasciare solo l'altro disponibile per i vostri cartellari e avere più spazio in questa area. Quindi, è un concetto molto innovativo è qualcosa che è anche sotto la patente che sicuramente aiutano il nostro brand nel segmento premium del mercato.